Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e vi porto una news che parla di regali Regali da parte di Ubisoft Ubisoft questa settimana sta regalando World in Conflict Che potete scaricare liberamente dal sito E la prossima settimana regalerà Assassin Grid Invece per quanto riguarda gli utenti di Playstation 4, Xbox One e PC Che tanto attendevano il DLC di 1.8 Resistance di The Division Quindi ripeto Xbox One, PC e Playstation 4 Dal 7 al 10 dicembre potranno scaricare tutti quanti i contenuti E giocarli in questo weekend Per chi non ha il gioco può scaricare la versione di prova E accedere a tutti quanti i contenuti come se avesse una versione completa Dopodiché automaticamente verrà chiuso In pratica funziona come una beta per chi non ha il gioco Però comunque sia potete provarlo e decidere se comprarlo o meno Invece per tutti gli altri utenti che hanno il gioco Rimarranno questi contenuti ragazzi Allora per scaricare i giochi da PC Che cosa dovete fare? Vi dovete registrare nella pagina di Ubisoft Io sono registrato però non sono registrato come utente da PC Quindi dovete fare questi passaggi che state vedendo in video Per registrarvi come utenti da PC E automaticamente avrete il diritto a scaricare i giochi che ci sono Questa settimana e la prossima settimana ragazzi Io vi lascerò il link in descrizione Mi raccomando ricordatevi la prossima settimana Assassin Grid Sempre disponibile per PC I giochi per PC rimarranno vostri per sempre ragazzi Spero che comunque questa notizia vi piaccia Spero che sia utile ad alcuni di voi Detto questo ragazzi il video finisce qui Un saluto a tutti Al prossimo video Al prossimo video